Nelle prime tre domeniche di ottobre, 6, 13 e 20, Pergola, la città degli Ori, ospita la ventisettesima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. Questa fiera è dedicata a tutti gli appassionati, alle famiglie, ai giovani, a tutti coloro i quali hanno piacere di trascorrere qualche ora o addirittura un intero weekend fuori porta a conoscere, a visitare le bellezze di questo territorio, di questo luogo, uno dei più bei borghi d'Italia. Tante le novità, partiamo dal treno storico che oggi è arrivato a Pergola con tantissimi turisti e la scelta di puntare sulla qualità della fiera, quindi ad esempio con la presenza del Presidio Slow Food, come vedete anche la presenza nel cuore della città, in piazza Ginevri, della casa del tartufo dove abbiamo uno dei nostri ori di Pergola, il tartufo bianco pregiato, l'altro oro sono i bronzi dorati custoditi nel nostro museo. Questa prima domenica è già stata un successo, abbiamo contato già oltre 20.000 presenze provenienti da tutta Italia. La fiera nazionale si conferma nazionale ma noi stiamo lavorando per la sua internazionalizzazione. Proprio per questo abbiamo presentato in questi giorni questa fiera proprio all'aeroporto internazionale di Ancona. Presenze di qualità, espositori da tutta Italia, la presenza di Slow Food questa domenica con la delegazione dell'Umbria, ma nelle prossime domeniche con le delegazioni della Toscana e dell'Abruzzo avremo ospiti la regione Liguria con la città di La Spezia, con le ostriche della Spezia, così come la prossima domenica avremo ospite Sorbillo, il re della pizza napoletana, un'eccellenza campana, un'eccellenza italiana. Quindi questa prima domenica è un ottimo viatico per le prossime due domeniche di fiera.